Detrato. Comarc, che partita è stata? È stata una partita un pochino strana, nel senso che poi tutto il turno è stato caratterizzato da punteggi abbastanza bassi. Noi siamo riusciti ad imbrigliarli per il primo quarto, per i primi due quarti, tenendo il punteggio basso. Sono una squadra molto fisica, poi con l'acquisto di Gersetti sono riusciti a vincere anche a Udine nel turno precedente. Quindi siamo andati lì con la consapevolezza di avere una partita ostica, ma come è sempre successo, nessuna volta esclusa, con la consapevolezza di non essere battuti fin dall'inizio. E così è stato, perché poi il primo quarto l'abbiamo tenuti a 11, siamo un pochino diminuiti poi solo verso il quarto quarto e ne è venuta fuori una partita assolutamente combattuta. Tra l'altro Francesco, oggi i nostri telespettatori hanno potuto vedere la replica della gara giocata a Bergamo, ma insomma quali sono le tue indiscrezioni, le tue annotazioni su questa Fiorentina Basket che hai seguito abbondantemente? Probabilmente sei il fiorentino più esperto di questa squadra, al di là di quelli che fanno parte dello staff della società. Anche perché essere più esperto di Antonio è impossibile anche per il modo in cui vive le partite, tarantolato lì davanti alla panchina accanto a coach Salieri, insomma è uno spettacolo nello spettacolo. Io ho soprattutto tre curiosità. La prima è, ripensando alle prime otto giornate, la prima vittoria, poi sette sconfitte consecutive, che tipo di crescita Antonio hai notato nella squadra? Se è una crescita più mentale o più tecnica? Cioè se la mano dell'allenatore è arrivata più sulla testa dei giocatori o anche proprio sull'aspetto tattico degli schemi, del tipo di difesa da imprimere, del tipo d'attacco che forse all'inizio era veramente tour e dipendente e che poi invece ha coinvolto tutti i giocatori a disposizione? Ma sì, guarda, assolutamente. Io ti direi che è un po' un mix di tutte e due, di entrambe le cose, perché poi per come Stefano prepara la squadra mentalmente e tecnicamente, è chiaro che tutto parte dalla difesa. Certo. Hai fatto una giusta osservazione. Momo è partito come un, diciamo, un solista e ora è un direttore d'orchestra. E poi è stata questa la differenza, che ha permesso anche a tutta la squadra di crescere a livello corale. Se no, altrimenti non si spiegano questo tipo di prestazioni, non si spiega questo tipo di classifica. Un progetto partito da lontano, ma che poi ha avuto il via libera e il nulla osta in corsa, si è poi realizzato attraverso delle, diciamo, affermazioni importanti, una su tutti, due su tutti, direi, inaspettate, come potevano essere quella di crema a crema o quella di ad esio. Senza dimenticarci poi delle, assolutamente delle importanti vittorie in casa. È un gruppo che non si dimentica mai, fortunatamente, da dove è partito. Dove tutti, noi siamo nati nello scetticismo, per certi versi ancora viviamo nello scetticismo, ma giustamente, perché quello che dobbiamo fare lo dobbiamo ancora dimostrare. Però ci siamo affermati, abbiamo guadagnato, pezzo dopo pezzo, un'importante credibilità che cerchiamo di mantenere fino alla fine per raggiungere poi quelli che sono i nostri obiettivi. Le curiosità sono tante, ti porto un attimo anche sull'attualità per capire. L'investimento fatto su Valentini è stato molto importante perché era un po' il giocatore che, immagino, nella tua testa, nella testa di Coach Salieri, doveva dare quel salto di qualità definitiva alla squadra. Ti chiedo a che punto siamo del suo recupero e se ci potrà essere anche il suo apporto in questo rush finale di campionato. Assolutamente sì, è quello che ci auspichiamo tutti. Secondo i programmi, Jacopo dovrebbe rientrare nella partita contro Mortara, quindi dopo la pausa Pasquale. Sicuramente è un giocatore che è stato un importante investimento, è stato anche un colpo di mercato riuscire a portarlo in una categoria inferiore, in una squadra così, in una società così giovane. Ma fortunatamente quello che è successo è che ha messo il proprio know-how, la propria conoscenza nel campo e fuori a disposizione di questi ragazzi che non ne avevano bisogno ma ne hanno approfittato. E questo è un'altra chiave di lettura di tutta la situazione. L'ultima considerazione, prima di far coinvolgere anche Fabio, si lega più che altro allo scetticismo di cui parlavi in precedenza. Ti chiedo, che tipo di realtà hai trovato, sotto il punto di vista anche della città, in uno sport in cui molte ferite sono ancora da rimarginare per quello che è la storia della palacanestro a Firenze? E invece dall'altro lato, sotto anche il punto di vista del patron piacenti, che tipo di risposte sono arrivate in questo periodo? Che tipo anche di amalgama siete riusciti a costruire per dare anche solidità al progetto che immagino non finisca con la regular season e con l'eventuale post-season che ci auguriamo? Insomma, non ci debba essere a livello di play-out. Guarda, ti dico, Firenze è una città che ha delle potenzialità enormi, non ultima quella nella palacanestro. Non lo dico io, non la invento io. Così è, così sarà. Quello che vorremmo dare è creare una realtà, come si diceva, stabile indipendentemente da chi ricopre i vari ruoli societari. Quindi creare una società stabile, una squadra stabile, indipendentemente anche dalla categoria, perché è chiaro che all'inizio soprattutto ci possono essere delle oscillazioni. Quello che ci proponiamo è di andare senza troppi voli pindarici al concreto e giocarci non solo partita dopo partita, ma pallone dopo pallone, perché tutti i grandi progetti nascono da delle scelte azzeccate sulle azioni fatte. Le annate si costruiscono dalla preparazione atletica, poi sostanzialmente. Firenze, indubbiamente, ha avuto un moto di scetticismo nei nostri confronti, spiegabile con quello che è il passato. Ora io non c'ero nel passato, quindi non mi permetto di stare a giudicare o valutare, perché non è mio compito, ed è anche inutile per noi. È utile solo per farci capire come mai una città potesse essere così scettica. È chiaro che lo sforzo poi di Piacenti ha messo a tacere un determinato tipo di scetticismo, forse quello meno sano. Ed è chiaro che tante aziende, anche a livello di sponsor, stanno aspettando di vedere quale possa essere la risposta concreta di questa società a questo progetto. Io mi auspico che una volta dimostrata la serietà con la quale affrontiamo giorno dopo giorno questo impegno, decidano di poter investire o comunque di avvicinarsi a questa realtà. Tra l'altro, insomma, una realtà si è già avvicinata, dato che la Fiorentina Basket di fatto ha cambiato nome, adesso si chiama All Foods Fiorentina Basket. Quindi una realtà ha deciso di credere in voi. Sì, in realtà ci sono anche altre aziende molto importanti del Fiorentino, da Enica, CFT, anche fuori da Firenze, Vismederi e altre aziende. È chiaro che per credere in un progetto importante non può bastare un anno, ma serve il primo anno. E quindi bisogna dare un tempo fisiologico al progetto di attecchire nella città e quindi di farci, come si diceva all'inizio, conoscere. Allora, abbiamo parlato di alcuni nomi in precedenza che si sono fatti conoscere sul perché. Il primo su tutti è stato quello di Momo Toure, che ha trascinato almeno offensivamente la squadra per una buona parte di stagione. Prima abbiamo visto i numeri della stagione della Fiorentina Basket, quindi chiedo alla nostra regia di riproporci proprio quella grafica. con il girone d'andata, 5 vittorie e 10 sconfitte, il girone di ritorno, che ovviamente è ancora in corso, 4 vittorie e 6 sconfitte. È questo il passo della Fiorentina Basket? È questo girone di ritorno che ci restituisce la dimensione di quello che oggi è il gruppo allenato da coach Stefano Salieri? Allora, noi siamo una delle squadre, se non la squadra più giovane di tutta la Serie B. Sì, quindi questi ragazzi stanno dimostrando una maturità che va oltre il loro valore, oltre la loro età. Se loro riusciranno, se tutti insieme riusciremo a mantenere l'attenzione alta e concentrati sull'obiettivo, come si diceva prima, pallone dopo pallone, azione dopo azione, in attacco e in difesa, allora ci potremo togliere delle soddisfazioni nel senso che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Di questo ne siamo sicuri e consapevoli. Non ultima la partita di Bergamo dimostra quello che sto dicendo, perché ce la siamo giocate alla pari con una società che ha un'altra storia, un altro budget, ha altri obiettivi rispetto a noi e giocava in casa. Eppure eravamo lì, non siamo stati, come si dice in gergo, asfaltati. Significa anche che abbiamo ormai il dovere di continuare con questo tipo di approccio quasi cannibale sulle partite, non distrarci, non credere che le squadre che sono dietro a noi sono già battute fin dall'inizio, perché quelle che sono davanti non ci hanno battuto ancora. Quindi con la stessa mentalità sono sicuro che la San Giorgiese sabato prossimo arriverà per prendere due punti e noi dovremmo essere pronti con le unghie e con i denti a non farceli portare via, perché per noi sono troppo determinanti. Stavamo parlando in precedenza di nomi, di giocatori, di protagonisti di questa Fiorentina. Tu ci hai detto che sono tutti protagonisti molto giovani. Qui abbiamo nella nostra grafica i leader per quanto riguarda punti, rimbalzi e assist, con una doppia presenza per la verità, che è quella di Momo Touré, sia ai punti, sia agli assist. È il vostro giocatore di riferimento, ma, insomma, Francesco, io voglio portarti in questa discussione. Io mi ricordo il primo allenamento, la prima partita che abbiamo visto insieme, qui io ti dissi, insomma, voglio fare anche un coming out, perché è giusto anche assumersi le proprie responsabilità. Quindi, sì, secondo me questo di Giacomo non mi convince, insomma, non mi convince più di tanto. Invece, io mi devo ricredere in primis, anche perché abbiamo visto poi le sue statistiche importanti per quanto riguarda i rimbalzi, ma abbiamo visto anche delle azioni importanti nelle ultime settimane, nelle ultime giornate. Questo forse è il nome che meno ci aspettavamo e che è diventato più protagonista. Sì, perché al di là poi degli oltre sei rimbalzi di media, è un giocatore che fa quelle cose brutte e sporche che non finiscono poi nelle statistiche, ma che magari ti fanno vincere le partite, che può essere un aiuto in difesa, può essere un tap out in una situazione complicata. Non è il centro che sposta, non è il centro dominante che magari altre realtà possono avere, però è un giocatore che, e chiedo conferma anche a Antonio, ha fatto quei piccoli tasselli, un po' alla volta per crescere, per diventare un riferimento, per essere un sostegno in difesa e in attacco e mi sembra anche un trascinatore silenzioso. Non so se può essere una definizione che si avvicina a Di Giacomo. Sì, assolutamente, anche se poi durante gli allenamenti tutti hanno delle loro caratteristiche, un loro carattere che è veramente piacevole assistere agli allenamenti. e sicuramente avete colto bene una crescita esponenziale nell'ambito caratteriale e tecnico. Però è una crescita che riguarda proprio tutto il gruppo, cioè anche le crescite singole, come abbiamo visto di Emanuele, sono permesse dall'appoggio di un gruppo, quindi che a volte emerge in particolarità, come può essere quelle di Matteo, Carol, di Simone Lasagni, di Tommaso, Bianchi, ma anche dalla panchina. Non dimentichiamoci i vari esploat che ci sono stati da Danny Facchino. Quindi io non riesco a trovare una particolarità che sia sconnessa dal valore enorme di questo gruppo e che spiega poi i risultati che sono stati ottenuti. Anche perché Antonio di fatto è come se fossero tanti tasselli, però alla fine il puzzle si apprezza solo se tutti vanno al loro posto. Assolutamente, sì, attraverso il lavoro di Stefano. Assolutamente. E ti chiedo se la salvezza è un qualcosa che può spostare e modificare anche il progetto, perché magari può essere anche un po' il timore di molti, cioè che il progetto della Fiorentina Basket sia legato al risultato sportivo di questa stagione. È un qualcosa che invece ha, come dire, una sua solidità che esula anche dal risultato sportivo, oppure sarà fondamentale in queste ultime cinque partite riuscire a evitare i play-out o quantomeno poi salvarsi tramite i play-out? No, la domanda è abbastanza impegnativa, però la comprendo anche. In realtà, come dicevo, questa squadra e questa società è nata per rimanere. Al di là dei voli pintarici che a tutti noi piace fare, di immaginarci la Serie A, va confermata innanzitutto la Serie B ed è chiaro che gli investimenti fatti dal nostro Presidente e il sostegno avuto dai nostri sponsor non si tireranno indietro in base alla categoria, però è chiaro che un progetto debba avere delle basi solide. Per noi la Serie B è il nostro punto di partenza. I ragazzi lo sanno, i dirigenti lo sanno ed è stato fatto tutto quello che era possibile fare per mantenere la categoria. Anche come non si dimentichano i giocatori da dove sono partiti, neanche la società si dimentica da dove è partita e tutti i sacrifici fatti fino ad ora. Quindi direi che prima di strapparci la categoria le facciamo sudare le sette camicie. Allora io direi di concludere ricordando che la Fiorentina Basket tornerà a breve sul parquet, Fiorentino stavolta, non su quello bergamasco. Insomma ci vuoi raccontare un po' la prossima partita proprio in due battute perché siamo in chiusura. Sì, velocissimamente sarà una partita, noi adesso abbiamo cinque finali. La prima sabato sera al palazzetto di San Marcellino alle 21.15. La prima di queste finali è una partita molto difficile perché loro recuperano un giocatore molto importante che però non, come ripeto, se riusciremo a imporci nella giusta mentalità non temiamo nessuno. Francesco ovviamente ci sarà, pronto al commento. Dunque non perdete l'appuntamento con il palazzetto di San Marcellino e poi con la replica di Teleiride. Tutti lunedì vi riproponiamo la gara della Fiorentina Basket. sia in casa sia in trasferta. Io intanto ringrazio il GM Antonio Fagotti per essere stato con noi. Ringrazio ovviamente Francesco Benvenuti che è sempre prezioso.